Ci sono le misure che sono state decise dal ministro dell'interno, Luciana Lamurgese, a proposito delle manifestazioni assolutamente possibili, legittime, democratiche, quelle per far sentire il proprio dissenso, per esempio nei confronti del Green Pass o anche della campagna di vaccinazione, ma le condizioni per poterle svolgere sono diverse e l'ha deciso appunto il Viminale. Allora, proprio per questo abbiamo intervistato il prefetto di Napoli in vista delle manifestazioni di domani. L'ho fatto la nostra Gaia Bozza e questo è il suo servizio. Piazze e in generale luoghi affollati e quindi vie dello shopping saranno probabilmente off-limits per i cortei no Green Pass a Napoli, già da sabato. A prefetti e questori la valutazione è caso per caso, secondo le direttive. Il nuovo prefetto di Napoli, Claudio Palomba, in attesa del Comitato Ordine e Sicurezza, inizia a ipotizzare delle possibili misure in questo senso. Dobbiamo conciliare l'esigenza di manifestare con quella ovviamente dei commercianti e soprattutto di chi si vuol godere, siccome in genere avvengono il sabato, di chi si vuol godere la città negli unici giorni liberi. Quindi esamineremo queste situazioni, se ci sono convergenze va bene, altrimenti delimiteremo queste manifestazioni. Sono già state preannunciate altre manifestazioni legate a motivi del lavoro, in particolare dei disoccupati. In quel caso, dice il prefetto, non è escluso che saranno ricevuti in prefettura perché uno dei temi prioritari è proprio il lavoro. Così come lo è in questo quadro la questione Whirlpool. Sto prendendo contatti con le amministrazioni centrali, al di là della presenza del Ministro Orlando con il Mise, è una delle priorità sicuramente. Sono già state preannunciate altre manifestazioni legate ovviamente a motivi del lavoro. Anche lì la Questura ha incontrato le organizzazioni, non è escluso hanno chiesto un incontro sabato pomeriggio, non è escluso che li possa ricevere perché, come ho detto anche in altre circostanze, uno dei temi prioritari sul Napoli è quello del lavoro. Riflettori anche sul PNRR e i possibili tentativi di infiltrazione criminale. Credo molto nella prevenzione amministrativa. Dobbiamo bloccare questi tentativi di infiltrazioni, soprattutto in considerazione delle enormi risorse che arriveranno col PNRR.